Notizia della Confartigianato. Ha preso il via un importante progetto che Confartigianato Venezia, in collaborazione con Art System, ha promosso. Si tratta dell'iniziativa didattica Il Mestiere dell'Artigiano, benvenuto nella mia bottega. Questo progetto permetterà a circa 4.000 alunni delle scuole primarie di recarsi in visita a laboratori e musei dell'artigianato del territorio. L'iniziativa ha ricevuto il plauso del Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, che ringrazia gli artigiani per la loro disponibilità e lancia la proposta di inserire attività di questo tipo all'interno dei percorsi curriculari, ritenendo utili queste attività e anche formative.